La Chiesa deve essere povera e umile. Lo ha ricordato Papa Francesco durante la Messa celebrata a Santa Marta. Commentando l'episodio evangelico della vedova, il Pontificio ha ricordato che la Sposa di Cristo deve brillare non di luce propria, ma di quella che viene dal Signore. Tutti i servizi che noi facciamo nella Chiesa sono per aiutarci a questo, a ricevere quella luce. E un servizio sin questa luce non va bene. Fa che la Chiesa diventi o ricca, o potente, o che cerchi il potere, o che sbagli strada, come è accaduto tante volte nella storia e come accade nelle nostre vite quando noi vogliamo avere un'altra luce che non è proprio la del Signore, una luce propria.